omicidio di natale via al processo per il delitto bruzzese san costanzo giovane trovato senza vita in casa dopo nove anni riapre al pubblico il museo oliveriano taglio del nastro alla sede pesarese di alpitur world rossini opera festival ecco il programma 2023 buonasera ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 14 dicembre e quelle di questi giorni sono davvero giornate importanti sul fronte processuale per alcuni dei fatti di cronaca più importanti degli ultimi anni ieri ci siamo occupati della conclusione del processo della banda dello spray coinvolta nella strage della lanterna azzurra di corinaldo oggi invece a pesaro si è aperto il processo per l'omicidio di marcello bruzzese un delitto di andrangheta in pieno centro storico che sconvolse la città proprio nel giorno di natale di quattro anni fa e allora vediamo quanto è emerso in questa prima udienza nel nostro servizio fu il delitto che gettò l'inquietante ombra criminale della andrangheta su pesaro quello dell'omicidio di marcello bruzzese ucciso il pomeriggio di natale davanti al garage della sua casa pesarese nella centralissima via bovio in quel pomeriggio del 25 dicembre il 51enne fratello del pentito di andrangheta girolamo biagio ex affiliato alla cosca crea fu freddato con 20 colpi di pistola in una vendetta in perfetto stile mafioso ovvero nel giorno di natale simbolicamente il più caro agli affetti familiari oggi nel tribunale di pesaro si è aperta la prima due giorni del processo ai tre sicari arrestati quasi tre anni dopo il delitto ovvero nell'ottobre 2021 dai carabinieri del ROS di Ancona il primo a finire alla sbarra è stato Rocco Versace 55enne reggino di Taurianova che non è accusato di essere l'esecutore materiale del delitto ma è accusato di concorso in omicidio e nello specifico di aver apparecchiato il delitto con appostamenti e pedinamenti nei confronti della vittima Versace era oggi collegato in videoconferenza dal carcere per un processo ancora alle fasi preliminari processo che però ha visto nove familiari di Bruzzese costituirsi parte civile avanzando una richiesta di risarcimento danni di un milione di euro familiari che non erano presenti in aula ma la cui stanza è stata rappresentata dall'avvocato Grazia Giannarelli domani il processo continuerà nel tribunale di Ancona quando sarà il turno di Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi rispettivamente di 43 e 44 anni accusati di essere coloro che hanno premuto il grilletto e dunque gli esecutori materiali dell'uccisione di Bruzzese. I due hanno scelto il rito abbreviato nell'ottica di beneficiare di uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna Continuiamo a parlare di cronaca perché un giovane di 23 anni di origine veneziana è stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa di San Costanzo è stato trovato sdraiato sul letto da carabinieri e vigili del fuoco che sono intervenuti su segnalazione di alcuni vicini che hanno visto la luce della sua camera costantemente accesa ignote per il momento le cause del decesso il ragazzo lavorava nel weekend come cameriere al ristorante La Riva da Franco di Marotta Ed ora cambiamo completamente argomento e ci occupiamo di due importanti inaugurazioni avvenute a Pesaro fra ieri sera e questa mattina La prima è quella del Museo archeologico Oliveriano che dopo nove anni di lavori è stato finalmente riaperto al pubblico Amiche e amici di Rossini TV oggi siamo a Palazzo Almerici nel cuore della città di Pesaro dove verrà inaugurato il Museo archeologico Oliveriano e diciamo che dopo tanti anni di chiusura per un restyling viene restituito alla cittadinanza completamente rinnovato Il Museo Oliveriano è sicuramente il museo, la realtà più sentita, più identitaria dei pesaresi in primo luogo perché ne racconta la storia mille anni di storia dall'epoca Picena, l'età del ferro fino all'epoca romana è un tributo ovviamente a Passeri e Olivieri è stato un lavoro veramente lungo e impegnativo però per restituire un museo nuovo, non solo rinnovato nuovo nei ambienti, nei pavimenti, nella climatizzazione, nella deumidificazione tutto quello che è anche in un luogo delicato, nel centro storico come questo il lavoro degli architetti ha saputo restituirne la bellezza, anzi forse implementarla Abbiamo identificato quattro nuclei narrativi principali il primo è dedicato alla Necropoli dell'età del ferro di Novilara una necropoli frequentata tra 750 e 600 avanti Cristo un secondo nucleo è dedicato a questo luogo votivo, il Lucus Pisaurensis un luogo di culto frequentato a partire dal III secolo avanti Cristo poi abbiamo un nucleo dedicato alla Pisaurum di epoca romana e per finire l'ultimo nucleo è dedicato al collezionismo settecentesco e quindi a Giovanni Battista Passeri e al Nibale degli Abbati Olivieri che hanno dato origine al museo Qual è stata la parte più sorprendente nell'allestire questo museo? Studiare come al solito perché bisogna... quando si fa un museo, soprattutto un museo archeologico parli di un luogo che è lontano perché gli scavi si fanno nel territorio e di un tempo che non esiste più partiamo dall'VIII secolo avanti Cristo fino all'avvento del cristianesimo quindi un lunghissimo arco di tempo che coinvolge un territorio vasto Novilara, Pesaro, tutto il territorio pesarese il San Bartolo, l'Ardizio e che mette in campo quindi l'obbligo di studiare quindi è come quando si parte ti danno una bussola che sono i reperti dei libri da studiare inizia la navigazione, inizia a studiare e a progettare mano a mano che capisci quali sono i materiali con cui ha a che fare È un momento che nel suo genere non esiterò a definire storico dopo tanti anni di chiusura finalmente riaprono i musei oliveriani quindi è veramente con gioia che diamo questo annuncio e troviamo fra l'altro una grande aspettativa una grande accoglienza da parte dei cittadini della città e tutto sommato siamo felici di poter dire è veramente un'opera ben fatta e che piacerà sicuramente ai pesaresi E vi ricordiamo che potrete approfondire l'inaugurazione di questo importante museo nella nostra tv il canale 80 nello speciale di approfondimento che trasmetteremo venerdì di questa settimana venerdì 16 dicembre alle ore 20 e 10 e la stessa sera di venerdì ma alle 21 e 20 invece vedrete lo speciale realizzato per l'importante inaugurazione che è avvenuta questa mattina a Pesaro quella della nuova sede di Alpitour World che porta a compimento un grande progetto di investimento del brand turistico nel nostro territorio allora vi mostriamo tutto in questo prossimo servizio Mercoledì 14 dicembre data della inaugurazione della nuova sede di Pesaro di Alpitour World il principale player dell'industria turistica nazionale investe su Pesaro e investe con un progetto lungo 4 anni che ha portato alla riqualificazione di questa sede collocata in strade Fornacevecchia una inaugurazione che è stata applaudita quest'oggi alla presenza dei vertici nazionali di Alpitour a cominciare dal presidente Gabriele Burgio che ha sottolineato il punto d'arrivo della realizzazione di questa azienda e un punto di partenza verso le strategie future di Alpitour strategie che hanno superato momenti complicati in questi 4 anni dalla pandemia alle conseguenze della guerra Noi pensavamo al punto di partenza fosse già l'estate del 2020 tanto che abbiamo acquistato in leasing due grandi aerei nuovi eravamo tutti pronti per la ripartenza poi questa ripartenza continuava la seconda ondata la terza ondata la quinta ondata e finalmente sembra che in estate siamo riusciti a ripartire il settore è ripartito non solo Alpitour tutto anche le visite degli stranieri in Italia quindi abbiamo avuto un bellissimo momento che speriamo continui È un brand che ha su Pesaro un'area particolarmente strategica? Sì diciamo a Pesaro abbiamo voluto preservare assolutamente il marchio Eden che ha un posizionamento molto chiaro nel mondo del turismo italiano e unito alla forza che ha Alpitour con il quale si è unito oggi possiamo dire siamo i leader in discursi del mercato italiano Questa è proprio una sede che celebra quello che è stato il passato anche la storia di Eden Viaggi però con un forte orientamento allo sviluppo futuro il brand Eden Viaggi è uno dei brand principali comunque del gruppo e anche questo nel tempo si è volto in questa sede però non ci occupiamo solo del brand Eden Viaggi ma ci occupiamo anche di tutti gli altri brand del gruppo perché i reparti e le persone che lavorano nella sede di Pesaro svolgono proprio un'attività a 360 gradi su tutte le attività e i progetti del gruppo anche per le altre aziende e ad Alpitour è arrivato oggi anche l'applauso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha dato un'importante sottolineatura alla promessa mantenuta dell'azienda Alpitour davanti ai timori occupazionali che esistevano in questi mesi sul futuro di Eden Viaggi hanno fatto esattamente quello che hanno detto mantenuto le promesse e eravamo timorosi che i centinaia di posti di lavoro potessero andare altrove dalla vecchia Eden Viaggi invece sono qua e sono qua in un luogo bellissimo una sede davvero all'avanguardia internazionale un bellissimo investimento dal punto di vista architettonico complimenti agli architetti e ai designer che ci hanno lavorato e molto bello perché è l'ingresso della città e quindi siamo molto contenti di questo abbiamo ringraziato il dottor Burgio per questo investimento occupazionale economico e anche per credere nella nostra città che diventerà capitale italiana della cultura e per qualche anno faremo lo stesso mestiere dovremo vendere sogni emozioni attrarre qua turisti esattamente come loro fanno rispetto alle mete di viaggio che offrono quindi speriamo che possa nascere anche una bella collaborazione bella collaborazione che già c'è in città rispetto al sostegno alla squadra di basket e quindi insomma dai speriamo che il connubio possa rafforzarci nei prossimi mesi intanto godiamoci questo bel momento per la città e soprattutto per i lavoratori che qui continueranno a lavorare in condizioni ancora migliori e dunque una nuova sede che dà luce anche a questo biglietto da visita di ingresso alla città dall'autostrada una riqualificazione che è stata seguita dallo studio pesarese Roberto Garbugli designer tre anni sono stati abbastanza complicati un cantiere molto lungo però tutto sommato alla fine non si è perso mai di vista quello che era il concept iniziale diciamo che è un progetto che ha subito determinate anche variazioni ma questo diciamo fa parte della storia di ogni progetto per cui il cliente in questo caso Alpi Tour è stata diciamo insieme a noi un socio che ha prodotto questa sorta diciamo di risultato finale e dunque ci sono voluti ben quattro anni per completare la nuova sede di Alpi Tour quasi due sono invece gli anni in cui è rimasto fermo il cantiere delle torri da 80 appartamenti che avrebbero già dovuto sorgere sulle ceneri dell'ex consorzio agrario nel porto di Pesaro cantieri fermi per una lunga telenovela burocratica sbloccatasi ieri nel consiglio comunale di Pesaro si avvia alla conclusione il pasticcio dell'ex consorzio agrario del porto di Pesaro dopo un anno di cantiere pronto a partire con due torri da 80 appartamenti molti dei quali già promessi alla vendita ma la cui costruzione fu bloccata sul nascere da un cortocircuito burocratico e regolamentare che ha dapprima generato un incidente probatorio con rinviaggiudizio di tre persone per abuso edilizio salvo poi recuperare un faticoso semaforo verde ai lavori generato da una sentenza del Tar delle Marche di qualche settimana fa alla quale ha obbedito il consiglio comunale di ieri consiglio che ha approvato all'unanimità la delibera che ottempera la sentenza del Tar emessa per il ricorso presentato dalla società Nova Portum per accertare l'illegittimità del silenzio del comune sull'istanza presentata e con cui ha posto due richieste ovvero l'atto di interpretazione autentica in ordine alla vigenza del PRG 1990 nell'area portuale e l'atto urbanistico di correzione materiale consistente nella cancellazione di un comma che il comune aveva già manifestato che si trattasse di un errore materiale come spiegato dall'assessora alla rapidità Mila della Dora supportata dall'ingegner Moretti del comune questa parte di questo comma come ho ribadito anche prima è frutto di un errore materiale che consiste nel mancato stralcio dello stesso paragrafo per mera dimenticanza a seguito dell'integrale recepimento in merito alle prescrizioni che erano state a suo tempo impartite dalla provincia di Pesaro Urbino motivo per cui questa modifica questa variante non necessita dell'acquisizione dei pareri dei nulla osta delle autorizzazioni da parte di tutti gli enti coinvolti in quanto i pareri erano stati già richiesti all'epoca quando era stata stralciato diciamo tutto quello che era la parte del progetto norma del piano regolatore e dunque corretta l'anomania dalla quale partorì la segnalazione della Capitaneria di Porto che aprì l'inchiesta sulla base di dubbi di edificabilità residenziale di uno stabile non destinato a fini strettamente connessi all'attività portuale il tutto risolto dalla semplice cancellazione di un refuso del PRG approvato con 29 voti favorevoli escluso il consigliere dall'asta da sempre contrario all'edificazione in quell'area altri consiglieri di minoranza da Michele Redaella Giulia Marchionni da Daniele Malandrino a Roberto Biagiotti hanno sottolineato la responsabilità politica in una vicenda che andava risolta in tempi molto più celeri e con danni ben più contenuti oltre a sottolineare il forte stato di incertezza che continua ad alleggiare su queste procedure amministrative e ieri il consiglio comunale di Pesaro ha ricevuto anche la curiosa visita dell'arcivescovo Sandro Salvucci che ha voluto portare il proprio saluto natalizio all'amministrazione cittadina sottolineando l'importanza del lavoro per il bene comune e suggerendo la disponibilità della chiesa a collaborare con i progetti di Pesaro Capitale della Cultura 2024 È trascorso meno di un anno da quando Wider ha annunciato il piano di costruzione del nuovo cantiere di Fano e ad oggi i lavori per la realizzazione di questa struttura high-tech dedicata alla nautica procedono rapidamente con l'obiettivo di aprire una prima area produttiva all'inizio del 2023 Con le opere di fondazione quasi completate si prevede infatti che l'area frontemare di 18.000 metri quadrati situata tra il porto antico e quello turistico di Fano potrà accogliere la produzione del primo scafo già dal mese di febbraio A Monte Cerignone il presidente della provincia Paolini e il sindaco del comune Chiarabini hanno oggi intitolato alla memoria di Alberto Pascucci il ponte sulla strada provinciale Conca recentemente riqualificato dai lavori realizzati dal consorzio di bonifica Alberto Pascucci è stato il fondatore dell'omonima azienda Caffè Pascucci la cui impresa di torrefazione da Monte Cerignone è stata capace di esportare caffè in tutto il mondo all'inaugurazione presenti i figli Mario Francesca Paolù Pascucci i rappresentanti dell'impresa di torrefazione e Paolo Simoncelli padre del compianto pilota Marco Simoncelli e grande amico della famiglia Pascucci L'università di Urbino conferirà il sigillo d'Ateneo a Darko Pellos prefetto della provincia di Ancona l'appuntamento sarà martedì 20 dicembre alle 11.30 nella sede del retorato dove si terrà l'Alezio Magistralis il prefetto organo della sicurezza e protagonista della coesione istituzionale e sociale domani giovedì 15 dicembre alle ore 17 l'ente Olivieri ospiterà nella sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana la presentazione del diciottesimo rapporto annuale FederCulture 2022 Impresa Cultura Lavoro Innovazione Strategie per Crescere l'incontro sarà l'occasione per discutere a partire dai dati e dalle analisi contenute nell'ultimo rapporto di FederCulture dei temi di maggiore attualità per il settore culturale e creativo e delle prospettive di ripresa che si delineano dopo la lunga crisi pandemica e sempre domani alle 21 e 15 nella chiesa pesarese di Sant'Agostino Ars Musica e World Organ Days Pesaro organizzano la decima edizione del concerto di Natale in collaborazione con l'Arcidiocesi di Pesaro ad esibirsi Luigi Faggi Grigione Grigioni e Mario Bracalente alla tromba e Luca Scandali all'organo ancora musica e cultura ma facciamo un salto in avanti all'agosto 2023 quando andrà in scena la 44esima edizione del Rossini Opera Festival il cui programma è stato svelato proprio questa mattina sono state scoperte le carte sulla 44esima edizione del Rossini Opera Festival che si terrà a Pesaro dall'11 al 23 agosto tra le cornici del Teatro Rossini Teatro Sperimentale Vitrifrigo Arena il progetto di eseguire brani poco conosciuti ha forgiato anche questo ROF 2023 che vedrà la sua inaugurazione nell'ampio spazio dell'astronave con la prima moderna di Edoardo e Cristina la 39esima opera del catalogo operistico Rossignano Rulono i Tamburi per un'edizione di grande attesa soprattutto per il titolo inedito Edoardo e Cristina che verrà presentato per la prima volta in edizione critica in epoca contemporanea quindi in perfetta linea con quello che è la tradizione del festival di presentare soprattutto opere meno conosciute così come fuori dai circuiti più convenzionali sono gli altri due titoli che presentiamo in cartellone Aureliano in Palmiro una ripresa di Mario Martone presentata già al festival qualche anno fa e anche la nuova produzione di Adelaide di Borgogna quindi tre titoli che sicuramente vanno incontro ai gusti e alle esigenze del nostro pubblico più affezionato che sa di trovare a Pesaro qualche cosa di veramente unico e ricercato il programma è sempre ricco oltre alle tre produzioni c'è il consueto appuntamento con il Viaggio a Remis con i ragazzi dell'Accademia impegnati in quella che è una delle opere iconiche del nostro festival più ricco programma di concerti e che prevede anche due appuntamenti particolarmente importanti come la cantata Malibrane e la conclusione del festival con la Petite Messe Solenelle diretta dal maestro Mariotti per una conclusione veramente straordinaria vi presenterà per la prima volta qui al Rofel la cantata in onore di Pio Nono bellissima cantata che la Fondazione Rossini aveva già preparato l'edizione critica infatti nel 98 l'abbiamo cantata a Juan Diego Flores e io all'Accademia di Santa Cecilia ecco questa è una e poi l'altra è la cantata la Malibran che sarà una prima mondiale dopo che si fece nell'Ottocento alla scala Concludiamo il nostro telegiornale con lo sport con una notizia di sport ad appena tre giorni dalla vittoria della Supercoppa infatti Little Service calcio a 5 Pesaro è tornata in campo ieri sera per il turno di serie A di calcio a 5 posticipato al martedì contro i Veneti della Camme Dosson la squadra di Colini è stata sconfitta per 2 a 0 al Palafiera ed ora si trova all'undicesimo posto in classifica siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma attenzione rimanete collegati su Rossini TV canale 80 perché questa sera ci sono tante cose interessanti da vedere innanzitutto subito dopo questa prima edizione del telegiornale esattamente alle 20 e 10 vi faremo vedere quelle che sono le iniziative natalizie di Fossombrone siamo stati all'inaugurazione ufficiale che ha dato il via a tutte le iniziative che vi accompagneranno per tutte queste feste e invece dopo la seconda edizione del nostro telegiornale quindi intorno alle 21 e 20 vi mostriamo una nuova esclusiva puntata di Ci Inviti a Cena la nostra Nicoletta e il nostro Paolo questa sera sono a Pesaro e sono stati ospitati a cena da una coppia di pesaresi che si chiamano Emanuela e Giuseppe quindi vi aspettiamo alle 21 e 20 e poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini non perdetevi l'appuntamento in diretta alle 7 e 20 saremo in diretta sul canale Ottante e anche sulla nostra pagina Facebook e poi domani sera torna insieme a Canestro e domani sarà una puntata di grandi commenti e di grande dibattito perché il nostro Marco Cadeddu avrà Alfredo Carboni opinionista e Mirko Faccenda giornalista e commentatore quindi si farà veramente un'analisi molto interessante di come sta andando la VL e chiaramente voi sarete protagonisti potrete partecipare scriveteci su Whatsapp al numero che vedete in sovrimpressione oppure se ci seguite nella diretta Facebook potete commentare sotto la diretta commentate fatelo perché potrete vincere biglietti e premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto allora ho detto tutto vi ricordo però questa sera il numero delle nostre segnalazioni utilizzatelo sempre perché è utile per inviarci foto video messaggi Whatsapp e segnalare le cose che non vanno questo è il numero ufficiale della nostra redazione noi chiaramente daremo contezza di quanto ci comunicate andremo sul posto a fare le riprese e quindi cercheremo chiaramente di risolvere la situazione buona serata in compagnia di Rossini TV